E i gilet gialli irrompono nel dibattito politico italiano, nuovo botta e risposta, Di Maio, non dimenticate che Macron paragonò il nostro governo alla Lebra, replica il governo francese, invece che ai gilet gialli l'Italia, pensi agli italiani. Alessandro Gamberi. Non si spegne lo scontro tra Italia e Francia sui gilet gialli dopo il sostegno dato da Di Maio a quella parte di protesta che definisce non violenta contro le politiche del presidente Macron. Era stata la ministra francese per gli affari europei, Nathalie Loiseau, ad intervenire, lui e Salvini imparino a fare prima pulizia a casa propria. Oggi Di Maio rilancia, quanta ipocrisia, non ho detto nulla di offensivo, anzi, fu Macron ad insultarci, ricorda, e a darci dei lebrosi. Contro replica d'oltrealpe, abbiano più rispetto, ne parlerò con il ministro Moavero. Era il 21 giugno scorso in piena crisi dei migranti a 20 miglia, Macron attaccò così nazionalismi e populismi. Ma voi li vedete montare come un lepre, un po' per tutto in Europa. Li vediamo crescere un po' ovunque in Europa, le parole che pronunciò Macron in paesi in cui credevamo fosse impossibile sono come la lebra. A differenza sua, insiste oggi Di Maio, io sto solo ascoltando i cittadini francesi che chiedono un cambiamento. All'attacco le opposizioni per il PD, un ministro non dovrebbe mai schierarsi dalla parte dei violenti e Forza Italia rilancia, Di Maio mette a rischio la pace sociale.